Ah, bene, bene. Non è che era un servimento. Essendo stato tra l'altro, potevo anche riparere sotto, ma a quel punto, quando sono uscito, sono uscito. È benissimo. Allora, qualcuno che era con noi ha ripreso, è una figlia che è albanese, non aveva portato la mano, non aveva avuto attenzione dall'altro. Alba, vieni qua. Vieni qua, Alba. Alba, vieni qua.